Esce il dato settimanale dell'Agenzia Regionale di Sanità del salito a 90 al numero di persone che hanno contratto l'infezione. I decessi sono all'incirca nella misura del 40%, pari a 36 casi con sepsi. A dirlo l'assessore al diritto alla salute, l'associale Stefania Saccardi, riguardo al proliferarsi in Toscana del batterio New Delhi, resistente agli antibiotici. Stiamo aumentando i controlli, ha precisato l'assessore. I numeri probabilmente sono frutto di un aumento dell'attenzione delle verifiche che stiamo facendo dentro i nostri sistemi ospedalieri. Saccardi ha poi detto che lo screening è stato esteso anche a reparti a minore intensità assistenziale, come sono le medicine interne, oltre che ai reparti tradizionali ad alta intensità assistenziale, come le terapie intensive e i reparti oncologici. Secondo i dati diffusi dall'Arts, potrebbero essere dunque 36 decessi sospetti riconducibili al superbatterio NDM. Proprio sull'edizione di oggi, il quotidiano Il Terreno riporta la notizia di un altro caso di possibile morte sospetta per NDM di un paziente di 66 anni all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore. Il paziente deceduto aveva subito un intervento chirurgico all'ospedale di Livorno nel giugno scorso.